Questa qui è la parte terminale della mostra Cerva del Futuro, facciamo l'ipotesi di poca ora di peggio, di ripristinare in memoria, sento, lei e le persone hanno preso la loro super memoria. Possiamo collegare un computer del nostro livello per i neuroni, in carico direttamente con un computer al momento che entrambi inviano gli impulsi, e ci sono alcuni tipi che ci sfruttano queste connessioni sui corsi di un comune efficiente di interfaccia Cerva del Computer. Il proprio linguaggio, eravo pensando di poter muovere anche degli arti, un ruolo di Armani, New York, che diceva come questo, utilizzati per monitorare per fare qualunque condizioni fino a crisi dei piedi di questi dispositivi, che sentono solo i fattori di codificare le parole che si oggetta il peso, non solo pensando. Se gli elettrodi viene collocati al suo peggio della cortice, con il tratto con i neuroni, rimasto abbastanza vicino, bisogna insegnare. Se gli elettrodi possono trovare le informazioni dentro il tuo cervello oltre che fuori, questa persona potrebbe avere cominciato a vedere immagini dal computer, se manda direttamente all'attricione visiva senza pensare per i giocchi. per il suo cervello. Se gli elettrodi, calmi, che vi volete tra corti di biografia, e quindi per il suo peggio della cortice, faccio il temere sul nostro cervello, se hanno accogliato i pesanti ciechi, con quel calmi che viene, si troncia il cervello, vuole vedere il cervello, per esempio il segnale, come oggi spesso con l'occhio sano. Sì. Viene un buon prestato comunicativo, per il suo cervello nel computer, pensando normalmente che è di spostare un corso sullo schermo del computer, con il trattato di meccanici, come la sede dell'arteccia, potreste per un giorno poterlo con l'elettronica. per la telecamera, vi nascolto per i miei occhiali del sole, che sono stati all'uniscretto, come i neuroni, la retina che passa nel segnale al cervello, per il cervello ottico. Inizialmente, segnalano una serie dietro, riposizionando il trattamento della sua retina, in modo da wireless, c'erano elettronici, a 100% dentro la testa, la versione, inizialmente, indosso gli occhiali, che risultano la sua retina. sono associati alla correzione degli errori e dell'acqua di rigenza. Sono situati a più di razzia, con la sensazione di cervella profonda, che risurgo sull'occhio, con le mie le aree, si è composizione, con le persone di dipendenza, con le depressione, con le macchie, 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 con la cifalea, con la grappola, con le macchie, con la mitocomastica, con le macchie, con la macchie, con le macchie, con le macchie. Anche come si stupendo, te lo aspetta, con le macchie, e di comparing, con le macchie diumina, Questa è la nostra menina. Grazie. 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 Questo è il nostro livello, un tipico di informazioni visive, che è una formazione di immagini che vediamo. Grazie. Grazie. Ricordate come avete imparato da fare le scarpe? All'inizio della fisica poi viene fatta automatica, questo perché non può essere esercitati molte volte, la melodia procedurale del come ci si allaccia le scarpe è stata immagazzinata nei gangli basali. Ora non dovete più pensare a come si allacciano, lo fate e basta. Questo che vuol dire? Escono dei vari movimenti, le variazioni del cervello che sono via interessati. L'IA ce l'ha fatta, è stata l'esibizione migliore della sua vita, è così contenta della sua performance che si ne ricorderà per molto, moltissimo tempo. L'ipocampo di LIA, una parte del suo sistema limbico, permetterà a questo ricordo di essere immagazzinato a medio e lungo termine in un'area del cervello che era attiva durante l'audizione. Ripendere un'attività con costanza contribuisce a creare delle vie più efficienti per i nostri lingui e ricordi più vivi, portandoci a performance migliore. hero generale. E' il cervello, il cervello è la 5.6 milioni di norma del cervello, con la mia testa, e in altri 10.000, quindi un singolo cervello propone non prendono almeno 100 milioni di collezioni. E' la mia testa, vorrei parlare, come vediamo, non è quella che ci è stata un'automobile, ci sono giocattina di base, come viete loro, e il resto il 52 milioni. Grazie a tutti. 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 Andiamo. Andiamo, andiamo verso il centro. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.